La 34esima serata del Grande Fratello, trasmessa il lunedì 5 febbraio, è stata caratterizzata da momenti intensi e da un'uscita sorprendente. Il ritorno a sorpresa di Giuseppe Garibaldi dopo il suo malore ha suscitato emozioni forti. Mentre il confronto tra Vittorio e Marco Maddaloni ha aggiunto un'ulteriore tensione nell'aria. Mirko fa il suo ingresso in casa per un confronto con Perla, una sorta di dichiarazione d'amore che fa sognare i fan. La puntata prosegue con una bella sorpresa per Rosicien che riabbraccia i figli. E sul finale una bella sorpresa anche per Grecia Colmenares che riabbraccia l'ex marito Marcelo Pellegrin. Ma il momento più significativo è stato l'inaspettata decisione di Fiordaliso di abbandonare la casa. Con parole toccanti ha annunciato, non ce la faccio più, è giunto il momento. È difficile rimanere confinata qui, ho bisogno di aria fresca. La sua uscita ha lasciato un vuoto nel cuore dei coinquilini scoppiati in lacrime. Sono Ennomination, Beatrice, Stefano, Vittorio e Federico. Il concorrente meno votato sarà eliminato. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.